La cosiddetta piazza sospesa o meglio la passerella ciclopedonale che avrebbe dovuto passare sopra via l'Italia collegando via Diaz a passeggiata Morin non si farà. È quanto ha stabilito la soprintendenza ai beni culturali della Liguria chiamata ad esprimersi circa l'impatto dell'opera sull'area dei giardini storici in particolar modo proprio in via Diaz intorno al monumento a Garibaldi. È toccato all'assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi durante il consiglio comunale straordinario di ieri sera dapprima ingoiare il bocone amaro e poi informare il consiglio. Il progetto della passerella redatto dall'architetto Alfonso Femia era stato presentato nel giugno scorso con i lavori che sarebbero dovuti partire entro la metà del 2020 finanziati dal comune e dall'autorità portuale per un importo di 1 milione 800 mila euro. Progetto che però arrivava in consiglio sotto il peso delle pesanti critiche non solo delle associazioni ambientaliste e delle opposizioni ma anche interne alla stessa maggioranza di centrodestra. Rimane comunque cogente il tema del collegamento con il frontamare della città ha detto l'assessore Piaggi in consiglio per cui sarà dato mandato agli uffici tecnici di studiare possibili soluzioni alternative anche se più costose come verificato in alcune commissioni comunali. Non accetto lezioni da chi ha governato e ci ha lasciato una città distrutta piena di debiti e sommersa dai rifiuti è stata la piccata risposta del sindaco Pierluigi Peracchini agli sberleffi provenienti dai banchi del centro-sinistra faremo i dovuti approfondimenti e cercheremo soluzioni alternative per il bene della città ha detto Peracchini. Una plateale figuraccia è secco il giudizio delle opposizioni rispetto a quanto rimediato ieri sera dal sindaco e dalla giunta. Così Guido Mellei, Leale e Spezia, Marco Raffelli del PD, Federica Picunia di Italia Viva, Massimo Lombardi di Spezia Bene Comune, Luigi Guori di Spezia Bella Forte Unita, Paolo Manfredini del Partito Socialista e Lorenzo Forceri di Evante Insieme che continuano. Come previsto è intervenuto un parere contrario da parte della Sorrintendenza regionale che ha smontato pezzo per pezzo uno dei progetti chiave di un'amministrazione che fino ad ora ha dimostrato di navigare a vista. Si pensi al progetto di riqualificazione di piazza Cavour tornato nelle nebbie piuttosto che l'idea balzana del tunnel di Monesteroli. E ieri sera durante il consiglio straordinario da noi richiesto, continuano le opposizioni, abbiamo registrato le dichiarazioni fuori luogo di un sindaco che ha detto no alle nostre proposte di disegnare un masterplan integrato per tutti gli interventi sul nostro waterfront, evitando di procedere a tentoni e di destinare i milioni della piazza sospesa al potenziamento dei parcheggi del centro storico. Per ultimo l'invito a dimettersi è rivolto in prima persona all'assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi. Grazie a tutti.